Un bus turistico sul lago sul modello dei city sightseeing, quelli rossi che girano nelle grandi città e da cui è possibile scendere e salire o pon o pof in ogni momento con l'apposito biglietto. È il progetto che è stato presentato ai sindaci del territorio da Colico fino a Malgrate su iniziativa del Museo della Guerra Bianca, Forte Montecchio Nord e di un'azienda di trasporti lecchese. Il progetto ha incassato un unanime apprezzamento dagli amministratori ed ora in fase di valutazione da parte della provincia di Lecco per le autorizzazioni necessarie. Il bus turistico che dovrebbe prendere servizio ad aprile collegherà Malgrate a Colico facendo una ventina di fermate nei comuni lariani con deviazione a Vezio di Perledo e all'Abbazia di Piona. Il pullman è destinato ai turisti che con il biglietto potranno scendere e salire sul mezzo per l'intera giornata dalle 7.25 fino alle 23.45 nelle due direzioni. Sul mezzo sarà presente un'audioguida che illustrerà i turisti ai vari punti di interesse lungo la provincia Re 72 in diverse lingue. Abbiamo ideato e sviluppato il progetto, afferma Stefano Cassinelli, direttore responsabile di Forte Montecchio, per andare incontro alle esigenze dei turisti, ben consapevoli che se ci sono più servizi si creano più flussi sul territorio, il che va a tutto beneficio delle nostre comunità, dei nostri musei e degli operatori commerciali. Il tutto senza costi per le amministrazioni pubbliche, grazie al coraggio impeditoriale dell'azienda di trasporti con la quale stiamo lavorando. Diversi punti forti del bus turistico sull'Ario. Il potenziale di questo nuovo mezzo ci permetterà di creare maggiore mobilità tra i turisti, valorizzando tutto il patrimonio naturalistico e culturale presente sull'Ario e in particolare i luoghi più difficili da raggiungere come l'Abbazia di Piona, il Castello di Vezio e Corenno Plinio, sul cui rilancio credo sia importante investire, sottolinea Cassinelli. Avremo un servizio di gran turismo che per 16 ore al giorno garantirà collegamenti tra tutti i paesi affacciati sull'Ario orientale. Abbiamo già il pieno appoggio di tutti i comuni e sarà importante la condivisione e il sostegno all'iniziativa degli operatori turistici non appena ci sarà l'autorizzazione degli enti preposti. Hanno già espresso il loro pubblico apprezzamento i sindaci di Malgrate, Fabio Polano, Di Colico, Monica Gilardi e il vice sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni.